Ciao ragazzi, io sono Redd e oggi recensiamo il G36C KeyMod scarrellante della Specna Arms. Let's go! Come detto, la casa produttrice di questo fucile è la Specna Arms, che lancia con questo fucile la sua serie SAG, ovvero una serie di repliche estremamente curate, estremamente ben realizzate, che cercano di emulare al massimo la controparte reale. Questa replica, come la controparte originale, è realizzata in polimoro resistente, metallo e, nelle parti più soggette a urti e quindi più vulnerabili, in acciaio. Tra le parti realizzate in acciaio ci sono dunque viti, spinotti e attacchi ciglia. È dotato di slitte RIS 22mm in alto e in basso e svariate attacchi KeyMod, tra in particolare per lato, qui, qui e qui, in modo tale da poter aggiungere una serie di accessori a vostro piacimento. Ovviamente, come tutti i G36, all'interno del paramano si pone la batteria, che per ovvi motivi non può starne il carccio. Va bene, passiamo adesso alle caratteristiche interne del fucile, entriamo lì dentro, vediamo, sbraniamole e scopriamo cosa c'è al suo interno. Caratteristica principale di questo fucile è sicuramente il perfetto allineamento di tutti i componenti, e la linea del fucile, e il fatto che sia stato realizzato in polimero opaco, che, come tutti sappiamo, è spagnolo perché gli dici opaco la cerveza. Gli elementi più importanti del fucile sono tenuti insieme, attaccati quindi al corpo principale, con dei perni. Questo permette di andare a sostituire semplicemente vari componenti del fucile, togliendo il perno e sostituendolo con l'elemento che vogliamo rimpiazzare. Per esempio, per quanto riguarda il ricevitore dei caricatori, questo è da G36, ma è possibile sostituirlo rimuovendo questo perno qui e metterne uno da caricatore da M4, per esempio. Stessa cosa si può fare con il calcio e per il paramano. Il castello del fucile è in polimero solido e, cosa molto particolare, vi è presente un numero di serie unico per ogni fucile, quindi ogni fucile di questa serie, quindi ogni G36C Key Mode, avrà un numero di serie apposta dedicato. Sempre sul castello troviamo il selettore di fuoco, con ovviamente sicura, colpo singolo e raffica, e ambidestro, quindi lo troverete anche sull'altra parte del fucile, per i nostri amici manciini, e i loghi ovviamente della casa produttrice, in questo caso la Specnarms. Il calcio è ovviamente abbattibile, in modo da rendere il fucile molto più compatto, soprattutto per situazioni di CQB. La parte superiore del fucile invece presenta maniglione per il trasporto, tacche di mira fisse regolabili e slitta RIS 22 mm, come vi ho già detto. La canna invece che è in metallo presenta una filettatura da 14 mm CV e spegnefiamma montato ovviamente, presente in scatola. Il cuore della replica è invece costituito da un GearLipo Ready V3, con micro connettore installato. La replica è completamente combattibile ovviamente con le batterie Lipo e Life. La replica presenta un sistema di cambio molla rapido, Enter and Convert. Per ottenere l'accesso al Gear, tutto quello che è necessario fare è rimuovere questo perno qui, chiudere il calcio, permetterà quindi di rimuovere questo sportellino e accedere direttamente alla molla. Grazie a questo sistema è ovviamente possibile rimuovere, estrarre e cambiare la molla estremamente velocemente. È possibile dunque adeguare rapidamente la potenza della replica alle condizioni previste dal campo da gioco e alle diverse situazioni che potreste incontrare. Tutto questo ovviamente senza bisogno di un officino di particolari attrezzi, in quanto vi basterà rimuovere questo perno, potete aiutarvi con un cacciavite o con quello che volete, e dopo sarete pronti a modificare la molla e richiudere tutto in maniera semplice e veloce. Il fucile monta infatti un sistema EBB, Electric Blowback, che sta tradotto per sistema di scarallamento elettrico. Questo ovviamente permette all'otturatore di muoversi avanti e indietro simulando il movimento di quello vero, permettendo quindi a questo modello di avvicinarsi sempre di più, non solo da un punto di vista puramente estetico, ma anche funzionale, alla controparte reale. Ma non è finita qui, infatti non è solo il sistema di scarallamento ad essere una novità, bensì anche il sistema di rilascio degli ingranaggi e della molla. Viene attivato tramite un pulsante davanti al grilletto, e questo permette a fine partita, o quando abbiamo finito di sparare in generale, di rilasciare gli ingranaggi e la molla interna. Successivamente durante la prova di tiro vi farò vedere esattamente come funziona. Ultimo piccolo appunto su questo sistema di rilascio a molla, è che fino ad oggi, diciamo, era presente esclusivamente in fucili top di gamma, quindi di fascia alta. La Specnarms invece ce lo fornisce su un fucile che è di fascia media. Da qui mi ricollego per fare un ultimo appunto, sia sul fucile ma più sulla Specnarms. La Specnarms è una compagnia quadrata, tetraidale. Cosa voglio dire con questo? Pongono e mettono estrema cura in tutto quello che fanno, soprattutto nei loro fucili. Questo ovviamente non è solo perché c'è un numero di serie che ti dice che questo fucile è tuo, perché ce n'è solo uno con questo numero, ma per le varie accortezze che pongono all'interno dei prodotti. Cioè mettere un tasto di rilascio a molla che ti permette di rilasciare gli ingranaggi interni e diminuire l'usura che il fucile può avere col tempo, è un'accortezza che non fa nessuno su un fucile di fascia media. Senza poi parlare del fatto che ogni replica è sottoposta già in fabbrica a un'isprezione pre-consegna, con certificato posto all'interno della scatola che attesta che questo fucile è stato controllato da Specnarms, ma mi mo papà. Cioè sono cose particolari che fanno notare quanta cura e affidabilità uno può riporre all'interno di una compagnia. Finite le mie osservazioni sulla Specnarms, passiamo alle ultime robine che ci mancano. Oltre al fucile in scatola troverete anche questo, ovvero un caricatore da 350 pallini, un maggiorato ovviamente, con i tipici attacchi da G36 per accoppiare due caricatori di fianco. Va bene, passiamo adesso alla prova di tiro. Let's go! Come detto per fare il cambio molla è estremamente facile, basta rimuovere questo perno, che io per comodità ho già allentato. Lo rimuovete, chiudete il calcio. Che cosa? No! Esatto. E adesso sarà possibile rimuovere questo sportellino e lì avrete direttamente la molla. Niente male! Va bene, come sempre adesso passiamo alla prova di tiro. Singolo. E raffica. Niente male! Ok, adesso che abbiamo finito di sparare, potete vedere che abbiamo attaccato le nostre 7.4, funzionerebbe anche con le 7.4 rimosse, ve lo farò vedere. Abbiamo lo sportello semi aperto, la molla, come potete vedere, è tirata. Se noi andiamo a premere questo tastino qui, che è quello del rilascio, giusto davanti al grilletto, rilasciamo tutto. Se andiamo infatti a sparare, questo rimarrà nuovamente aperto, nel momento nel quale rimuoviamo le nostre lipo e premiamo, funziona lo stesso e va a chiudere tutto. Ora che avete visto anche come spara, direi che possiamo passare alle conclusioni finali. Questo fucile è estremamente valido, è stato il mio secondo fucile da softair e non ha mai avuto bisogno, anche dopo anni, di controlli, ispezioni, non ha mai avuto malfunzionamenti. Questo significa che anche se sarete un po' più duri, un po' più, come dire, burberi col vostro fucile, non avrete problemi di nessun tipo, sempre che non lo usiate come clave, in quel caso non posso farci niente. La sensazione che dà a sparare con questo, ma anche il suono che fa in campo, soprattutto mi gasa, mi gasa parecchio, sarò sincero. Ed è effettivamente molto ben realizzato e, ribadisco, per essere un fucile di fascia media, non è da sottovalutare, ma soprattutto non è nemmeno da trascurare quando si pensa di fare l'acquisto. È estremamente customizzabile, non solo grazie ai vari attacchi per Slit Taki Mod, ma anche per i perni. Come vi ho detto, che permettono di rimuovere determinati elementi del fucile per sostituirli. Volete sostituire il paramano perché questo non vi piace, lo volete in polimero opaco? Togliete questo perno ed è fatto. Volete metterci un calcio di forma diversa perché non si adatta bene al vostro braccio, alla vostra spalla? L'ho fatto in due secondi. Stessa cosa per il ricevitore dei caricatori. Io sul mio ho montato uno da M4 perché esteticamente mi piace di più, ma ci vogliono due secondi. Basta rimuovere il perno, cambiare l'attacco e funziona alla perfezione anche con dei caricatori per cui effettivamente non è nato, perché sono quelli da M4. In generale un fucile ha d'alte prestazioni. È estremamente preciso anche senza una canna di precisione ma con la canna di fabbrica. È estremamente customizzabile, anche abbastanza intuitivo sia mettersi in modalità e in posizione di fuoco che spararci. Non è un fucile complicato o difficile da utilizzare. Questo è tutto quello che ho da dirvi su questo fucile. Se avete dubbi, perplessità, vi aspettiamo nei commenti o direttamente in negozio. Se volete venire a provarlo, tastarlo, massaggiarlo, sempre in negozio ci trovate a braccia aperte. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Alleluia! ...evece è costituito da un Ghiarlifo... Ghiarlifo, droi! Ma Matti è ancora in bagno in tutto questo? Sì! Ah, pazzesco! È realizzata in polimero resistente. In polimero resistente! È dotato di una slitta RIS 22 mm in alto e in basso. Io ho fatto in alto e in basso. Sono in fondo.